Il cuore mio l'ho sempre saputo, però bisognava dimostrarlo nelle sedi opportune e credo ora con la sentenza del Tribunale di Cremona credo sia messa la parola a fine a questi tre anni che per me sono stati veramente pesanti e niente, ora iniziamo una seconda gioventù. È finito un vero e proprio incubo per il tennista Daniele Bracciali, assolto insieme a Potito Starace dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Dopo essere stato scagionato dalla giustizia sportiva, è arrivata l'assoluzione dal Tribunale di Cremona con formula piena perché il fatto non sussiste. I due tennisti erano stati accusati di aver truccato alcuni incontri internazionali tra il 2007 e il 2011, accuse totalmente decadute in aula. I motivi chiaramente nessuno li saprà mai, però diciamo che è un'inchiesta che si è basata molto su area fritta e che chiaramente nelle aule del Tribunale poi hanno poco valore. Alla fine siamo giunti alla verità che per fortuna mi ha visto innocente sia a livello sportivo che a livello penale. Purtroppo sicuramente fare delle inchieste dove c'è come protagonisti dei giocatori di calcio o giocatori di tennis fa molto più risalto nei giornali e quindi prime pagine. Ho avuto tante persone come sono state vicino, dai familiari, amici, circolo tennis a Rezzo e quindi diciamo sono riuscito a superare questa cosa nel miglior modo. Chiaramente molti come succede quando queste cose si allontanano, però da una parte è meglio così.